Sì, è un po' di più, non è una fine cosa Sì, è un po' di più Sì, è un po' di più Sì, è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 è uguale è un po' di città è un tipo di città è un po' di questo muslimo è un po' di questo e non è un po' di spettacolo è un po' di spettacolo Sì. è molto grande, non è ballato su, non lo vedete che ci va a ballare ciò che lo ha fatto è un cioccolato 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 a me e a me a me e a me e a me a me a me a me a me come se ti più cammilla per quella che non puoi mettere un motorito alla mia cosa che ho fatto a me a me a me a me ma qua non vedi un po' se vede la pelle Sì, non è scusato. Quante lune c'è lei? Quante lune c'è lei? Quante lune? Non so. Quante lune c'è lei? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.